Non è un caso che quel video sia del 2019 e non di questa ultima campagna elettorale, perché capiamoci, sono ancora convinta che sarebbe ottima cosa tagliare le accise sulla benzina. Il punto è che si fanno i conti con la realtà con la quale ci si misura. Io non ho promesso in questa campagna elettorale che avrei tagliato le accise sulla benzina, banalmente, perché sapevo qual era la situazione di fronte alla quale mi sarei trovata. Poi si è scoperto che nel programma dei Fratelli d'Italia c'era il congelamento delle accise, ma soprattutto che Giorgio Ambeloni in un video in campagna elettorale ha parlato di tagliare le accise. Ci voleva un terzo video per correggere il secondo che correggeva il primo e quando non si dice la verità poi la toppa è sempre peggiore del buco. Senti, adesso il governo corre ripari, i sindacati dei benzinai hanno congelato lo sciopero che avevano previsto e dal governo è trappelato che se dovessero alzarsi ancora ci sarà un intervento sulle accise. È il primo colpo duro che prende il governo Ambeloni? Non credo che ci sarà un contraccolpo immediato nell'accorgersi che la Meloni, come altri, non tutti ma altri, ha una certa tendenza pinocchiesca. Semmai quello che le può far male in questo momento è avere perso l'armatura, la corazza della donna che tira diritto, lineare, coerente, che non ascolta nessuno, che non fa compromessi, che non si fa ricattare, che va dritta verso l'obiettivo. E invece la si è vista, balbettare, tentennare e zigzagare. E questa non è una bella cosa agli occhi di quegli italiani che non votano per ideologia, ma votano quello che gli sembra il padrone del momento. Se lei perde l'immagine della padrona, della donna forte, è quello che le può far più male ancora della nomea di bugiarda.